Banca Mediolanum è rapporto personale diretto, attenzioni e dialogo continuo. E la relazione è il fulcro di un modello che vuole da sempre il cliente al centro. Occasioni per incontrarsi, conoscersi e divertirsi in un'atmosfera diversa. Un accesso privilegiato a spettacolo, arte, cultura e musica in luoghi prestigiosi per riservare ai nostri ospiti un trattamento unico e piacevoli occasioni di incontro. Momenti speciali per condividere emozioni e toccare con mano un nuovo modo di fare banca. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.